All'inizio pensavo a una macchina, a qualche incidente, ho sentito anche puzza di fumo, poi però ho ripensato alla banca sotto e non è la prima volta che succede qualcosa, allora sono uscita fuori e infatti ho visto un ladro. Un vuoto nella notte che ha svegliato di soprassalto i residenti di San Cipriano, frazione del comune di Cavriglia. Qualche minuto prima delle quattro è stato infatti fatto saltare in aria il bancomat della filiale della banca Valdarno con un'esplosione, probabilmente utilizzando una bomba all'acetilene. Ma la banda dei ladri entrata in azione questa notte è scappata a mani vuote, il bancomat preso d'assalto era infatti fuori uso e dunque vuoto. Praticamente verso 10 alle 4 stanotte stavo dormendo, ho sentito un tonfo e poi puzza di fumo. Sono uscita in terrazza, mi sono affacciata e ho visto praticamente sotto asamice il bancomat, ho visto un uomo con i passamontagna e praticamente poi ho sentito dai carabinieri il giorno dopo e mi ha fatto esplodere il bancomat. Subito ho chiamato i carabinieri, dopo 10 minuti sono arrivati e niente, alla fine non ho preso niente, però insomma a casa mia nel muro dietro il bancomat c'è un po' di crepe e il bancomat completamente distrutto. Fino alle 5 e mezzo c'è stato l'allarme, ci siamo affacciati alla terrazza e siamo tutti svegli perché è stato veramente un boato. L'allarme è così scattato in piena notte, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno dato avvio alle indagini. Al vaglio degli inquirenti adesso le immagini delle telecamere di video e sorveglianza della zona che serviranno per capire se si è trattato di un ladro solitario oppure di una vera e propria banda.